Buongiorno a tutti da Gran Cane Cucina e come vedete in apparenza abbiamo un bel pentolino di qualcosa. Riprendiamo. Allora abbiamo l'artuglino fresco tagliato da Giuliani, due scatole di tonno, la salsa rosa, vediamo. Vediamo che con una forchetta. Eccola. Vedete, salsa rosa e la sotto un po' di panna fatta in casa e oggi con questo bel piattino molto nutriente, genuino, vegetariano, come lo volete chiamare, faremo due spaghetti con salsa rosa, tonno e l'artuglino verde. Ci vediamo per poco in Gran Cane Cucina. Comunque la preparazione sono ingredienti metà mazzetto di l'artuglino. Poi la vostra panna, la cucina un mezzo bicchiere. La salsa rosa è anche ketchup, un'otto di grammi e un'otto di grammi di salsa rosa, che poi comunque è composta da maionese e ketchup. Ok? Che dire, il tonno, due scatole, un filino di cipolla, un pochino di olio, un po' di aglio. Ci ho messo dentro un lato di basilico, sale o il dado come voi volete. E niente, la preparazione è fare tutto l'intingolo, il soffritto, tutto il vostro ben di Dio di pentola che c'è. Due spaghetti, perché ho fatto 90 grammi di spaghetti. E che dire, ci aspettiamo a dopo, vi aspetto a dopo per il nostro bel piatto di spaghetti con lato vino, tonno e salsa rosa. Bà chung là lontan di chimio.